Allora, Superguida TV. Allora, Lunetta, nella prima stagione ti abbiamo vista cinica e anche scorretta. Come ti ritroveremo invece in questa seconda stagione? Mi ritroverete cinica e scorretta. Beh, perché il personaggio è quello. È quello, è quello. Quindi mi piace per quello. Ti troverai ad assistere, ovviamente il personaggio di Interpretato da Carla, che affronterà una shitstorm social. Qual è l'arma oggi per contrastare l'odio social? Cioè è meglio reagire oppure rimanere in silenzio ad un commento anche negativo? Allora, io non sono grande esperta veramente né di social né di appunto di commenti negativi. Non è che mi sia capitato. Come si può reagire? Dipende, dipende. Perché sai, quando attaccano la tua attività, il tuo lavoro, come nel caso della serie, e qui io ho un ristorante e viene attaccato il ristorante, la qualità del cibo e mille altre cose. Quindi ovviamente uno cerca di difendere, di proteggere il proprio lavoro. In questo caso io mi avvarrò del lavoro delle avvocate, in particolar modo questa volta di Marina Battaglia, che è la più cattiva di tutte. No, ma è interessante, se posso aggiungere, che invece c'è un momento, proprio c'è un dialogo fra noi, in cui io dico, a me, sì, mi hanno, sa quante volte mi hanno attaccata, eccetera, e lei come reagisce? Chiede lei. Dico, ma a me da qua mi entrano, da qua mi escono. E lei dice, no, io non ci riesco. Mi feriscono, cioè, appunto, si reagisce in maniera diversa. Però Marina Battaglia trova un modo per incastrare questi haters, che è un modo imprevisto, cioè un po' insolito. Lei trova una strada interessante, adesso non è che dobbiamo svelare tutto perché lo vedremo. No, 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 quando ammazzi tutti, no, non lo devi dire, non va bene. No, voglio dire che anche il modo per affrontare legalmente questa situazione sarà originale, insomma, no? Cioè, anche diverso da quello che aveva pensato il socio, Zander, quindi anche su questo c'è un bel movimento, diciamo, no, nella storia. Senti, Marina, il tuo personaggio si doveva ad affrontare le prime difficoltà della vita adulta. Viola ha più paura di crescere oppure è più spaventata dal futuro? Penso nessuna delle due. Semplicemente comincia a fare i conti con innanzitutto la costruzione, perché noi nella prima stagione la vediamo affrontare una fase molto romantica e di grande slancio di una relazione che è l'inizio, che è il matrimonio, e poi dopo bisogna costruire. E quindi in questo la coppia poi si dimostra salda affrontando delle varie cose. In secondo luogo questo personaggio affronta appunto un desiderio di emancipazione dalla famiglia e il fatto di non aver messo al centro della sua vita il lavoro fa sviluppare anche una questione economica. E quindi lei a un certo punto si accorge, comincia a fare i conti realmente, che questo lusso in cui è cresciuta, questo grande privilegio in cui è cresciuta, lei per le sue scelte pagherà un prezzo. quindi dovrà fare i conti con il mondo del lavoro, con il mondo degli affitti, in una città in cui purtroppo questa fascia d'età ha un grandissimo problema, soprattutto con queste tematiche. Senti, qual è la prima volta invece in cui tu ti sei sentita indipendente? Nella mia vita? Sì. Ah, beh penso la prima volta che sono partita, io a 16 anni sono andata in Australia un anno, quindi penso lì, ho scelto il posto più lontano possibile, volevo andare in Nuova Zelanda ma non si poteva. Senti Lunetta, questa serie ha avuto un grandissimo successo già nella prima stagione, ti sei spiegata il motivo? Cioè perché il pubblico ha... Beh perché io credo che il successo dipende dal fatto che è veramente una serie bella, insolita, che racconta le donne da un punto di vista assolutamente nuovo, diciamolo. Viene da un grandissimo successo inglese, perché il format è inglese, The Split, che anche lì è andata molto bene. È scritta benissimo da Lisa Noor, diretta bene, inquadrata in una Milano veramente elegante, bella. Ma guarda, forse è la prima serie in cui io mi rivedo e dico, mazza, sono proprio figa, finalmente mi piaccio, che non è poco. Grazie mille, grazie.